Dico caro figlio, lei come voterà al referendum sul taglio dei parlamentari? Intanto per non mostrare di essere uno che ci gira attorno, voterò sì, però chiarito che voterò sì se si va a votare, ma a questo punto è molto probabile, dico che questa riforma è fatta molto male, è molto grossolana, è l'ennesima semplificazione, perché un taglio lineare dei parlamentari non costituisce una riforma della democrazia, però non è neanche un attentato alla democrazia come altri hanno detto. Purtroppo dobbiamo accontentarci di questi passi piuttosto rozzi in avanti verso una modernizzazione senza decurtazioni democratiche del sistema e quindi dovendo scegliere fra due prospettive, nessuna delle quali mi entusiasma, io scelgo quella che mi infastidisce di meno, ma questo non mi fa perdere di vista il fatto che la riforma sia stata costruita e approvata con una serie di sgrammaticature democratiche che mi piacerebbe che non si verificassero in futuro.